Salve a tutti, benvenuti alla Teca Castellana, sono Lello Traisci, cultore e portavoce delle ricerche e della musica antropologica popolare del luogo. Bene, oggi ci troviamo a parlare di un grande evento che la Campania festeggia ogni 2 febbraio, Amaronna Raiuta oppure Amaronna Montevergine oppure Mamma Schiavona. Che dire, questa è una ritualità che risale nell'arco dei secoli perché già i greci la festeggiavano in quello che allora si chiamava Monte Partenio e invece oggi ci chiamiamo Montevergine, del resto dal greco Partenio significava vergine, si festeggiava la Dea Cibele che guarda caso questa Dea in ogni sua rappresentazione viene raffigurata con una camorra in mano ed ecco perché noi cultori e cantori delle tradizioni delle camoriate ci teniamo a festeggiare questa grande festa. Cosa dire, vi lascio alla parola del padrone di casa di Accademia Napoletana, il dottore e il professore Massimiliano Verde che ci parlerà ancora meglio di questa tradizione e poi vi lascio una chicca che ha regalato il grande maestro Marcello Colasurdo proprio a noi della Teca Castellana dove ci fa ascoltare con la sua voce una bella filastrocca che era dedicata a questa giornata. Un bacione a tutti, ciao da Alello Traisci, ciao, buon ascolto. Nel caso dell'aiuto dei femminili è un episodio, una ricorrenza che sì, che le persone non etero ma anche etero ma in genere persone non eterosessuali compiono in omaggio al santuario di Montevergine in ossego della cosiddetta mamma schiavona madonna nera e perché desiderano ringraziare l'avvenuta liberazione, perché così dice il mito, così dice la storia, di due uomini colti in fragranza nel, diciamo così, nell'amarsi, ecco, secolo e secolo e orsono, quindi condannati questi prove disgraziati, secolo e secolo e orsono, così dice appunto il mito, e quindi attaccati ad un albero e quindi lasciati così all'intermeria e al morire, appunto ebbero, ricevettero la grazia dalla madonna appunto per che li liberò. E quindi ogni anno si compie questo pellegrinaggio in omaggio a questo, a questo miracolo da parte di, diciamo, delle persone che hanno un orientamento sessuale diverso dall'etero, accompagnati però anche da quelli etero perché non c'è nella cultura napoletana, non c'è nella, e quindi nell'idioma che rappresenta questa cultura, nessun tipo di razzismo, nessun tipo di discriminazione verso la diversità ed orientamento sessuale. E cosa fanno? Come lo, diciamo, a chi si rivolgono? Si rivolgono, ecco, ancora, ad una madonna nera, quindi una madonna di colore nero e che viene venerata in quanto tale. Qui abbiamo sim iude e sim venude, si dice appunto in idioma napoletano verso Montevergine, nella loro ritania, ricordo in questo caso il grande Marcello Colasurdo che, insomma, ci dà un saggio ogni anno delle sue doti artistiche in questo senso, e viene venerata una madonna di colore scuro e si potrebbe dire sicuramente di fattezza di colore non caofasico. Quindi in realtà noi abbiamo, attraverso un culto religioso, popolare, antichissimo, che si esprime in idioma napoletano, due ossegui, due rispetti, se possiamo chiamarli così, uno verso la diversità orientamento sessuale e l'altro verso la diversità etnica, addirittura assorta, diciamo, a vergine, vergine madre. E qui abbiamo ovviamente tutto il discorso legato alla via madre, che ci riporta non soltanto ai greci, ma anche ai riti, come dicevo, pre-greci, addirittura egizi, ma ancora prima, come sappiamo, soprattutto molto importanti nel mondo mediterraneo, e qui abbiamo un altro collegamento con la Napoli capitale, terra, o Campania Felix, terra di, come posso dire, di coagulo e di elaborazione di questi miti e di queste culture multiformi e plurisecolari, che però non vengono mai annientate, ma vengono, anzi al contrario, elaborate per formare quella che è poi l'identità dell'idioma napoletano, in cui si esprimono questi culti, e nella stessa cultura napoletana, ma direi a tutto d'ondo campo. Quando loro, quando loro, state rinde, vengono fuori, e se fuori ancora chiove, primavera tricca ancora, tutto potesse fare, mamma schiavone. Buona cantilora! Buona cantilora! Grazie! 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 Grazie!